I've been waiting, I've been watching in the shadows per questa posizione del ranking dei mini boss di King Dice All'ottavo e penultimo posto troviamo ooooh Piruletta Precisiamo, le posizioni del mio ranking sono fatte tenendo in considerazione il modo più semplice in cui si possa sconfiggere ogni boss E se abbiamo la bomba fumogena, la reliquia divina o il frallino astrale Questo boss diventa di una facilità estrema perché ci basta schivare le sue gambe o le palline che lancia dall'alto e colpire in continuazione per Elimination Certo, se non abbiamo questi amuleti potrebbe essere complicato capire il timing per fare i paris sulle fish rosa Ma questo a noi in questo momento non interessa, quindi obiezione respinta Iscriviti